salve a tutti voglio mostrarvi alcune foto della città di palermo dopo il naufragio che c'è stato ieri guardate come è combinata la mia città guardate un po onestamente ci sono moltissimi danni questa via regione siciliana anche questa via regione siciliana guardate come è combinata la mia città ragazzi la mia città guardate come è un po' io vi trovo informati i ragazzi pubblicando sempre delle foto di come è combinata palermo quindi adesso io vi saluto come sempre se volete condividete questo video ci sentiamo alla prossima salve a tutti